bella a tutti ragazzi di questo nuovo video dal vostro mattina azzurro oggi ragazzi faccio il nome dell'inter della stagione 2022-2023 compresa ragazzi tutta la stagione cioè serie a coppa italia cpd vi ringrazio ragazzi un bel live che sono al canale che voglio arrivare a 300 iscritti ne manca solo 6 quindi per favore iscrivetevi in tanti per farmi regolare comunque questo bel traguardo e condividete il video ovunque e ragazzi vi andrò a fare il pagione di tutta la squadra di tutta la stagione nel portiere fino all'attaccanti e ragazzi fatemi sapere se siete d'accordo con me o cosa cambieresti iniziamo subito partiamo ragazzi dei portieri partiamo da onana a cui ragazzi ho dato un 8 e mezzo un votone però perché perché ragazzi partendo dal percorso in champion che è stato veramente devastante in cui dalla fase ad eliminazione diretta fino alla finale ha fatto clean sheet andata e ritorno col porto clean sheet col benfica l'andata e doppio clean sheet contro il milan andata e ritorno quindi c'è poco da dire ha fatto 5 clean sheet su 6 fino alla semifinale per poi subire solo un gol contro manchester city alla in finale e tre gol dal benfica vabbè ma comunque ormai la qualificazione era già era già fatta e iniziano ragazzi però andata invece dal titolare perché le prime dieci partite le ha fatte samir con onana soltanto portiere di champions però poi dalla partita contro il bayern monaco è diventato il portiere titolare della nostra inter quindi ragazzi 8 e mezzo stramentato secondo me uno dei migliori giocatori secondo me in questa stagione dell'inter samir andano invece voto 6 e mezzo molto molto criticato secondo me anche giustamente perché complice anche un inizio difficile per l'inter anche lui si è fatto imbischiare in questa difficoltà della squadra ma non è ovviamente solo colpa sua perché la difesa soprattutto all'inizio e traballava molto ne ha preso una maniera di gol nella mia partita della stagione è molto anche colpa della difesa lui fa quel che può diciamo che non è che fa parati impossibili come qualche anno fa vabbè ragazzi ha 38 anni ma scusate ci ha salvato il culo veramente per tantissimi anni e possiamo dirgli ben poco a questo superman dovesse essere stata l'ultima partita al suo contro il torino lo ringrazio di cuore sei stato uno dei giocatori finalmente più importanti della dell'inter dell'inter recente e uno dei miei giocatori preferiti in generale per il tuo carisma per il tuo veramente per la tua leadership e il tuo essere silenzioso nonostante sei stato sempre un leader incredibile un portiere magistrale da fare invidia tanti grazie samir di tutto sei e mezzo per te questa stagione cordas voto sei più perché comunque fa l'unica partita contro il torino gioca 20 minuti nel finale al posto di andanovic e ragazzi fa due miracoli uno su sanabria e l'altro su miraggio qui sembra facendo veramente diciamo clean sheet contro il torino e facendoci vincere quella partita che sennò sarebbe terminata in pareggio con due parate veramente mostruose quindi ragazzi quel più solo per quello per i 20 minuti giocati col torino perfettamente difensori in difesa ragazzi parte dalla destra sinistra dal terzino destra all'esterno all'esterno sinistro dunfris voto sei più allora la sua stagione è stata veramente ridicola fino tipo alla trentesima giornata di campionato poi però si è svegliato ha deciso di svegliarsi e iniziare a dare una mano alla squadra dopo veramente prestazioni veramente insufficienti e molto molto negative ha ripreso un po' in mano comunque la sua stagione alla fine comunque nell'ultima partita ha fatto molto molto bene possiamo dire riprendendoci il posto da titolare che gli era stato contestato da bellanova addirittura quindi pensate voi e dopo un periodo di forma veramente ridicolo si è ripreso nel finale però non il dunfris che secondo me potrebbe fare molto molto di più però almeno un aiuto ce l'ha dato soprattutto nelle partite di coppa taglia anche dicendo sulle ultime campionato molto molto bene nel finale quel più ragazzi per il finale stagione in crescendo però ragazzi la stagione complessiva è appena appena sufficiente darmi a sette e mezzo mamma mia messo come terzetto di difesa dopo la follia di scrive con l'impoli che gli è costata l'espulsione ragazzi lì scrive non ha più giocato dalla 22 giornata fino alla 38 ma scrive non ha più giocato una partita ha giocato sempre mettendo dal mio titolare sul terzetto di destra difensivo facendo pensazioni semplicemente affascinanti ragazzi non trovi il termine non sbaglia me forse in 20 in 25 partite che ha giocato dopo che scrive si è fatto spedere si è fortunato ne ha sbagliate tre forse 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 veramente giocatore fondamentale per questa inter anche lui silenzioso non parla mai ed è stato veramente è uno dei giocatori più sottovalutati dell'intera serie a giocatore incredibile che ragazzi quando lì non passa nulla con la sua grinta lui è uno che se avesse delle qualità incredibili sarebbe veramente uno dei top al mondo perché non è che ha tutte quelle grandi qualità comunque di di piedi di così però ragazzi è quello che si mette più il cuore in questa squadra è uno dei giocatori preferiti attualmente dell'inter e si mette a questo sette e mezzo forse potrebbe mettere anche otto a cerbi lui votò otto mamma mia francesco a cerbi arrivato tra lo scetticismo generale con tanti insulti per lo scorso anno vi ricorderete il nazio minan che aveva riso dopo aver subito il gol del 2 a 1 e contro i rossonieri però ragazzi questo quest'anno si è veramente ripreso tutto con in zaghi che gli ha dato fiducia lui l'ha ripagata al massimo e la natura è perfetta in zaghi per la cerbi possiamo dire messo lì al centro non si sposta mai e fa una stagione meravigliosa c'è in campionato che c'è così che coppa italia quando gli mettono le punte come herling holland come chi cazzo ne ha chi più ne metta lui riesce sempre a fermarli riesce sempre ad aggrapparsi cedietro e non farli mai girare stagione fantasmagorica di francesco a cerbi 35 anni ma sempre veramente un ragazzino in questo momento voto otto non me lo sarebbe aspettato bastoni voto sette e mezzo ragazzi ci sa è molto molto forte quindi alla fine neanche forse dagli 9 lo so che è fortissimo ha fatto una grande stagione però potrebbe fare ancora quel passettino in più magari quella concentrazione un pochino più difensiva che qualche volta magari nei calci d'angolo così si è fatto sorprendere di testa quello deve un pochino migliorare però del resto c'è un piede fatato la progressione del palla al piede forse il migliore difensore centrale in Serie A in progressione uno dei migliori in Europa in quel obiettivo lì possiamo dire molte volte anche in attacco fa cross interessanti in difesa molto bene nelle diagonali fa molto molto bene sempre poco da dire tanti assist gol non ci sono però non è un giocatore da gol è più giocatore da assist più giocatore da aiutare la squadra comunque molto molto bene voto sette e mezzo Di Marco voto otto buona buona la sua stagione ha fatto veramente dei numeri incredibili in totale ha fatto sei gol e otto assist dall'esterno del centro campo quindi tanta tanta roba e interismo puro abbiamo visto contro il Milan con il microfono il capitano tanta tanta roba ragazzi veramente c'è poco da dire giocatore carne di questa Inter che con i zaghi è diventato fondamentale sua sinistra è il suo al posto non glielo può togliere più nessuno e veramente dimostra proprio l'interismo al 100% al 110% possiamo dire di Marco voto otto bella nuova voto 5 mi dispiace ma le volte che è stato chiamato in causa sicuramente non è stato all'altezza della situazione perché per esempio con l'Empoli è entrato la passava sempre indietro non avendo mai lo spunto la cattivere ha la personalità di andare in avanti ha paura di giocare sembra ma non puoi stare nell'Inter se hai puro di giocare a pallone se hai puro di giocare a palla a terra e questo però mi dispiace perché comunque ha delle buone qualità ma secondo me non è ancora pronto per giocare in una big magari in futuro lo sarà lo scorso anno mi è piaciuto molto a Cagliari quest'anno mi è veramente deluso infatti ha avuto pochissime occasioni e le occasioni che ha avuto non è che abbia sfruttato al massimo diciamo quindi ragazzi voto 5 per la nuova anche se mi dispiace stringa il voto 4 finisce qui la sua avventura all'Inter ma veramente l'ha finita nel peggiore dei modi possibili peggio di così non poteva finirla prende il rosso contro l'Empoli nella ventidecima giornata facendoci perdere tra l'altro la partita da 1-0 poi per l'inferiorità domenica durata 70 minuti con due follie e poi ragazzi non vede più il campo perché si infortuna secondo me l'infortunio è stato molto molto gonfiato perché fosse sceso in campo è sempre stato riempito di fischi quindi secondo me hanno voluto preservarlo dai fischi e l'espulsione non ha più giocato una partita quindi ragazzi sempre poco da dire 4 chiude veramente male diceva di essere una bandiera dell'Inter una bandiera veramente di sto cazzo si è comportato di merda poteva dirlo lo scorso anno che almeno lo vendevamo ci prendevamo i soldi avendo rifiutato 50 milioni lo scorso anno è stato veramente un giocatore ingiusto che non me lo aspettavo assolutamente pensavo fosse veramente anche lui un interista puro come Di Marco mi sbagliato voto 4 ciao ciao Scrinia arrivederci intanto l'anno prossimo tornerai e dirai che l'Inter vorresti tornare all'Inter Defrae voto 6 non è che fa tutta questa grande stagione viene chiamato in causa delle volte quando a Cervi praticamente deve rifiatare non è che faccia tutte queste grandi prestazioni alla fine fa il suo ma non è quel Defrae di 3-4 anni fa che veramente ti cambiava le partite ti reggeva da solo una difesa però il 6 secondo me se lo porta a casa comunque quando è stato chiamato in causa non è che ha fatto delle disgrazie ma non ha fatto neanche chissà cosa D'Ambrosio voto 5 anche lui come Bellanova quando è stato chiamato in causa non è che ha fatto molto bene però lui ragazzi tanto che qui all'Inter ha sempre dato tutto quest'anno forse è in calo fisico si vede probabilmente secondo me il prossimo anno lascerà il calcio perché si vede che proprio non ce la fa più fisicamente dal mio punto di vista però ci saranno veramente tanti questi anni e io ringrazio di tutto però questa stagione secondo me è negativa voto 5 Goal 6 voto 6 ha veramente pochissime occasioni per metterci in mostra ma alla fine non è che fa non disdegna tantissimo alla fine non fa una bruttissima stagione alla fine fa 4 reti in totale che sono molte per un giocatore che ha giocato pochissimo la riserva di Di Marco possiamo dire che non ha mai giocato da titolare sempre da subentrata subentrata sempre però la titolare quasi mai perché Di Marco era intoccabile e fa gol contro Barcellona fa gol dei gol di inserimento contro la Saranetana mi ricordo però la sua stagione è da 6 secondo me non di più centrocampisti Barella voto 7,5 da Barella mi aspetto sempre quel pizzico di più perché penso siamo veramente un fuoriclasse assoluto non è che lo penso è un fuoriclasse assoluto però delle volte deve mettere un pochino a posto un po' la sua cattivera perché delle volte va a poter stare troppo a mandare fuori il compagno l'ha migliorato nell'ultima parte di stagione però deve migliorare ancora di più la sua stagione diciamo che è estremamente positiva 9,9 assist però 7,5 perché delle volte ho visto essere praticamente fuori dal gioco delle volte l'ho visto in dei periodi molto negativi quindi non riusciva a far nulla non riusciva a rendere al massimo quindi per quello non gli ho dato di più però 7,5 è un ottimo voto perché comunque una mezzala che fa tutti quei gol tutti quegli assist è veramente chapeau c'è una nuova club voto 8 per lui stagione incredibile perché gioca dappertutto gioca a mezzala poi viene reinventato play da Enzaghi con l'assenza di Brozovic che poi ragazzi poi si prendrà quel posto lì e con Mkhitaryan anche andrà a fare la mezzala quindi cioè alla fine gioca in colunguro forse gioca meglio da play che gestisce palle in maniera veramente incredibile gira il pallone con una facilità disarmante con una qualità tra i piedi veramente divina per il turco che ha fatto una grandissima stagione e si metta secondo me con questo grandissimo voto 8 perché ha giocato veramente tutte e ad altissime intensità 4 gol e 8 assist nella sua stagione ma tanta tanta quantità Mkhitaryan 8,5 assolutamente secondo me migliore del centrocampo arrivato per fare la riserva di Salanoglu titolare dall'inizio alla fine ne salta nonostante l'età 35 anni le gioca tutte lui metronome in mezzo al campo una qualità incredibile tra i piedi quando le azioni partono da lui veramente è uno spettacolo puro vederlo è magia il destro di Mkhitaryan il destro di sinistro le sue accelerazioni improvvise i suoi cambi di gioco i suoi guizi per mandare in porta la punta i suoi tiri potenti e precisi giocatore incredibile 5 gol e 2 assist non è che sono tutte queste grandi statistiche ma è quello che ha fatto in questa stagione chiaramente inappagabile e veramente impensabile nel inizio d'anno mi aspettavo un Mkhitaryan che giocasse pochissime partite ha giocato tutte è veramente veramente bene facendosi anche sentire l'uomo in più in Champions vista la sua grandissima esperienza 8,5 stranamente è stato grande grande Mkhitaryan Brozo ha vissuto 5,5 non mi ha mai convinto in questa stagione pienamente tra infortuni e periodi di forma abbastanza abbastanza blandi diciamo che quando ha giocato non è che ha fatto il Brozo in degli scorsiani dove era praticamente il giocatore imprescindibile dell'Inter con spalletti dove si diceva quando non gioca Brozo mi sento che gioca male tutt'altro quest'anno quando ha giocato lui l'Inter ha giocato male perché non riusciva a far girare le palla come sapeva molto molto lento molto molto impazzato forse in calo fisico non lo so però una stagione secondo me non è tutto sufficiente infatti gli do 5,5 Gagliardini voto 0 sarebbe da non commentare neanche gioca praticamente l'unica partita da titolare sempre però preferita ad Aslani non si sa perché ci fa espellere con due follie dopo 25 minuti e già lì bisogna solo dire ma vaffanculo poi entra delle partite te le fa perdere te le fa pareggiare cioè veramente poi sei in vantaggio che cazzo ti metta da fare Gagliardini non è un calciatore non è un giocatore di calcio mi dispiace ma non è un calciatore non può fare di professione un calciatore perché è una mancazza di rispetto e di insulto verso gli altri calciatori che veramente lo fanno di sport perché non è possibile questo lo deve andare a giocare a tennis non può giocare a pallone voto 0 vattene via e non ti voglio vedere mai più è proprio scarso Aslani sei più Aslani gli do col più di incoraggiamento perché ha giocato veramente poco preferito veramente non si sa come da Anzaki ha preferito Gagliardini a lui non si sa veramente in quell'universo parallelo però lui veramente non vede mai il campo l'unica volta che lo vede però gli spruzzi di qualità ci sono non come Bellanova che ha giocato ha fatto schifo lui ha giocato bene Aslani quando ha giocato pochissime volte ha messo qualità ha messo personalità e secondo me metteva molte molte più chance anche dai titolari e non lo è stato però secondo me il prossimo anno potrà far ricredere il nostro misto voto 6 più attaccanti passiamo ragazzi al reparto attaccanti con Lautaro Martínez voto 9 secondo me ragazzi Lautaro Martínez miglior giocatore di questa stagione dell'Inter ragazzi fa 57 partite totali realizza 28 gol e 10 assist praticamente fa un gol ogni due partite una miglia incredibile per una seconda punta dovrebbe essere in realtà e fa ragazzi i gol come se non ci fossero domani giocando anche spesso quest'anno in campionato da subentrato per riposare in vista della Champions quindi ha fatto molti gol anche da subentrato e questo ragazzi è un aspetto che va considerato ci ha fatto vincere la Coppa Italiana ribaltando l'1-0 da Fiorentina facendo due gol meravigliosi facendocela vincere fa un gol di Supercoppa Italiana in Champions non riesce a decidere però ci sta in campionato ci trascina lui con i suoi gol visto che Luca è stato praticamente fuori tutta la stagione 9 secondo me stramedato per un fenomeno assoluto uno dei top 5 centra avanti al Monty in questo momento Dzeko 7 più Monty sempre a criticare e criticare ha 35 anni che cazzo deve fare no 37 mi sa fa quel che può fa quel che può regge come sempre mezza stagione da agosto fino a gennaio però quando lo fa è veramente incredibile poi per non parlare della Champions comunque anche aprile a maggio in Champions ha fatto la differenza con la sua qualità Dzeko è giocatore da Champions anche perché mi ricordo con la Roma faceva la differenza e fa la differenza anche qui perché data la sua età dato che lo gioca praticamente quasi tutte visto che in campionato non è che ha giocato moltissime dopo l'ha giocato più in Champions però anche in campionato non ha disdegnato e ragazzi il suo lavoro è sempre apprezzato perché fa un lavoro enorme per la squadra e dà un contributo veramente fondamentale 7 più secondo me strameritato per Dzeko quel più per il gol contro il Milan che ci ha aperto le danze nella semifinale d'Andate 100 Romelu Lukaku ha avuto 6 molti dicono ma come 6 di più la media gol è buona assolutamente perché in totale comunque non è che fa malissimo fa 10 gol giocando veramente poco e poi la sua entrata è tutolare però è stato fermo per lungo tempo poi è entrato in forma ragazzi negli ultimi 2-3 mesi prima è stato veramente imbarazzante ma già si lega la porta a vuoto è stato forse anche troppo buono per quel gol che ha fatto poi con l'Ir si dopo si è ripreso quel mese ha fatto una barca di gol ha fatto tipo 7-8 gol però non basta non basta un giocatore che è stato preso la Lula la Lula sto cazzo perché ha giocato Lautaro Dzeko quest'anno Lukaku non è che li vogliono anche a me perché io vi ricorderete quando è tornato con una cosa di paglia mi è stato anche un po' sul cazzo lo scorso anno però di va bene ma non è che mi sta più simpatico come prima diciamo alla fine la cazzo di 2-6 corre a voto 4 anche lui ci prova almeno ci prova almeno non fa cagate come Gagliardini le fa le cagate però non come Gagliardini almeno l'ho visto la Monica Medall l'anno scorso ma per meglio che lui è un giocatore da serie B forse forse da serie B però lui è un cazzatore lo è da serie B da serie C però lo è fa un gol contro il Benfica un bel gol gioca in campionato ma non fa mai la differenza poca poca roba anche lui ovviamente 4 ma così tanto per dargli un voto per disgrazia da dire mister Inzaghi voto 8 ben poco da dire mister Inzaghi ha vinto la Coppa Italia ha vinto la Supercoppa come lo scorso anno in due anni ha vinto 4 torfei due Supercoppe e due Coppa Italia Champions League lo scorso anno ottavi quest'anno increscendo abbiamo senevato in finale di Champions sfiorando la vittoria e il campionato ragazzi però deludente ho fatto un po' una media tra il 10 diciamo sì il 10 della Champions il 7 delle vittorie delle Coppe e il 4 del campionato perché il campionato è veramente male con 12 sconfitte però il percorso nelle Coppe è stato veramente devastante confermato se l'allenatore da Coppe e da Gare Sheik questo ragazzi vi ho sentito nei commenti cosa ne pensate i vostri voti cosa ne pensate nel prossimo video